Dopo il successo di Dialettiamoci, la compagnia Fabio Valenti cambia genere e organizza una nuova rassegna nazionale di teatro brillante che prenderà il via domenica 11 gennaio al Teatro Comunale di Caldarola. Il progetto, chiamato Il Gusto del Teatro, prevede quattro spettacoli più la pericena con prodotti tipici nelle scuderie di Palazzo Pallotta e un ampio percorso di formazione con l'Istituto Comprensivo di Magistris di Caldarola e l'Istituto Superiore Filelfo di Tolentino. Stavolta abbiamo cambiato genere, sempre teatro, ma un genere che rispetto a quello che facevamo qua, che è Dialettiamoci, sicuramente cambia molto nella parte del gradimento del pubblico, presumo. Io però sono anche abbastanza fiducioso perché i segnali che abbiamo avvertito in giro sono molto incoraggianti. Soprattutto le scuole si sono mostrate molto interessate perché è anche un cartellone che prevede un discreto appoggio da parte della letteratura. Questo non è secondario, è sicuramente un motivo in più anche per gli studenti per venire a teatro, stavolta senza l'assillo del voto. Quattro generi diversi, poi c'è il classico Mandragola di Machiavelli, fatto che è quello di Domenica che comincia, poi poi invece c'è una commedia moderna che è Uomini sull'oro di una crisi di nervi, poi c'è un classico come il Don Giovanni ma diciamo che si mischia un po' con l'opera lirica, con la musica, e chiudiamo con Promessi Sposi che è chiaramente una parodia dei Promessi Sposi in chiave di commedia dell'arte, quindi con l'uso di maschere, di musica dal vivo eccetera, dove cinque attori fanno circa 20-22 personaggi, quindi uno spettacolo scoppiettante. Nel dettaglio di quali eccellenze parliamo? Parliamo della Vernaccia di Serra Petrona, del Befortino, parliamo dell'azienda Sicci con le sue marmellate, parliamo del vino cotto, parliamo dello zafferano di Cessa Palombo e dei ceci di Cessa Palombo, esclusivamente chiamiamolo a chilometro zero, ma io preferisco dire promozione dei prodotti del territorio, eccellenze di questo territorio.